Non rispetta il suo nome la Dufur Varallo che ricorda la punta più alta 4.634 metri del Monte Rosa, no, perché non arrivano i tre punti per la formazione di Varallo, vince lo Stresa, vince con merito 1-0 grazie al gol di Cosentino. Una partita bella che si è fatta vedere, lo Stresa ha avuto parecchie occasioni anche per raddoppiare, ma è bastata la rete realizzata nel primo tempo da Cosentino. Le principali azioni all'ottavo minuto, Cosentino, conclusione fuori di un niente, al quindicesimo si vede la Dufur Varallo con un calcio di punizione di Casella, palla alta. Al diciannovesimo ancora, conclusione di Cosentino, un'altra barba al palo, lo Stresa si avvicina al vantaggio. Ventiquattresimo, Socross che arriva dalla sinistra, Lancia tenta una sforbiciata che non riesce, la partita resta sempre sullo 0-0. Al ventisettesimo, tiro di Ivaldi, la palla fuori. Al trentaquattresimo però arriva il vantaggio, il gol che deciderà la partita. Il cross di Lipari dal fondo, colpo di testa di Cosentino sul primo palo, bellissima la torsione, palla in rete, gol dell'1-0. Al quarantunesimo, calcio di punizione di Casella, vola Barantani e chiude così il primo tempo. Nel secondo tempo, partita sempre molto divertente, al terzo, Lipari da solo, tenta la conclusione, para Cordini. Al quarto minuto, palla per il giovanissimo Ciruc, dentro per Cosentino che viene però anticipato, molto bravo il giocatore ucraino dello Stresa, molto davvero giovane. Al settimo, su cross in mezzo, Salina, alto, tenta un errore clamoroso, un errore clamoroso quello di Salina. Al nono minuto, tiro di Ferraris, palla a lato, poi si scatena Demetrio Lipari che diventa una spina nel fianco della difesa della Doful Varallo. Al quattordicesimo, scende, mette in mezzo Cosentino di poco, non riesce a ribadire in rete. Al diciannovesimo, ancora discesa di Lipari, palla che arriva in mezzo, Motta in ritardo. Lipari poi esce, lascia spazio ad Andrea Piracini. Al ventunesimo, tiro di Casella su punizione, para Barantani in angolo. Al ventinovesimo, calcio di punizione di Ciruc, ad aggirare la barriera, mette una pezza il portiere Cordini. Nel finale è lo Stresa che controlla la situazione, non deraglia, non spinterna la formazione di Bolzoni e riesce a portarsi a casa tre punti che la mantengono in alta classifica. Grazie. 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 Grazie.